Questi giorni ci avete dimostrato quanto volevate bene al mio Davide. Un abbraccio forte alla Francia, a Vicky, ai miei Bruce, ai miei bimbi, a tutti. Ciao Davide. Grazie a tutti. Grazie. Questi giorni ci avete dimostrato e quanto volevate bene al mio Davide. Un abbraccio forte alla Francia, a Vicky, ai miei Bruce, ai miei bimbi, a tutti. Ciao Davide. Inizio dal significato del tuo nome. In ebraico significa amato, diletto. Tanti re hanno avuto il tuo nome e vedendo tutti gli amici e persone comuni che sono qui oggi e dimostrati il loro affetto, credo che questo sia il tuo nome. Davide, tu sei semplice, diretto, pragmatico. con il tuo sguardo profondo riesci ad entrare dentro le persone e rimanerci. Tu non sei come tutti gli altri. che è venuto, che è venuto, che è venuto, che è venuto. Troppo presto, troppo giovane e poi era una brava persona, più che altro rimarrà il ricordo di una brava persona. È un ragazzo come noi, del popolo, tranquillo, serio, senza fronzoli per la testa, è quello che ci vuole, soprattutto nel calcio. Non era solo un bravo calciatore, ma penso che è stato un gran uomo, quello che ha letto su di lui e quello che ha sentito in giro. Veramente se ne merita tutto l'amore che la gente provava per lui.